eccoci qua salve a tutti amici e bentornati sul mio canale bentornati dal vostro giugio juve inedito terzo video di giornata non lo faccio quasi mai ragazzi ma questo video è fondamentale perché dobbiamo parlare della situazione della juventus situazione attuale quindi ratti spioni gente che parassiti che vengono qui ogni giorno per cercare nuove idee per i loro contenuti potete tranquillamente chiudere evitare di rimanere qui non si parlerà di voi non si parlerà dell'inter si parlerà della situazione di mercato della juventus perché ragazzi oggi 31 luglio è quasi finito praticamente il mese di luglio quindi domani è agosto mancano pochi giorni poco più di due settimane all'inizio del campionato ed io sono sinceramente ragazzi preoccupato della situazione della juventus perché il mercato ragazzi in questo momento è in una fase di stallo non mi piace mi è piaciuto molto l'inizio ma adesso inizio a preoccuparmi perché vedo delle cose che non stanno andando come dovrebbero ne parliamo insieme in questo video ma prima di tutto come al solito un like al contenuto iscrizione fondamentale al canale perché ragazzi vi ricordo sempre che io anche se in questo video parliamo di juventus e cerchiamo appunto di fare un'analisi calcistica normalmente faccio contro informazioni quindi per me i like sono fondamentali per la circolazione del video è fondamentale sono i numeri perché fare contro informazione se hai dei numeri bassi non ha senso quindi dobbiamo cercare di informare più persone possibili sulla situazione vergognosa del calcio italiano quindi iscrivetevi gratuitamente e azionate la campanella delle notifiche in modo da rimanere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che andrà a produrre in futuro su questo canale allora ragazzi miei cerchiamo di parlare della situazione della juventus in questo momento dopo un inizio assolutamente ottimo di mercato da parte della juventus con l'ingaggio di tiago motta che era assolutamente il mio allenatore tra i papabili preferito l'ingaggio di un centrocampista che ci manca dai tempi di pirlo ragazzi perché a me non mi è piaciuto tantissimo anche se sicuramente ha avuto grande qualità soprattutto se lo vai a paragonare i suoi successori a un locatelli neanche mirale in piani ci ha fatto impazzire comunque l'acquisto di douglas luiz è qualcosa che mi è piaciuto tanto è un giocatore che mi piace tanto come mi piace tanto turam però ragazzi il calciomercato della juventus dei lati positivi si è fermato poi lì e siamo più o meno a inizio metà luglio perché poi da quel momento in poi si è iniziati ad arrancare e io andrei per ordine partirei dalla porta è stata fatta un'operazione di ringiovanimento per cercare di abbassare i costi andando a prendere di gregorio pagandolo quasi 20 milioni e 18 più qualcosa tra l'altro dando dei soldi all'inter che già quello ragazzi già solo per quello io non l'avrei preso mai però si è cercato di prendere questo portiere perché oltre ad essere giovane è bravo con i piedi ma secondo me tra cesni e di gregorio è un downgrade ragazzi per me cesni attualmente è più forte di gregorio poi cesni guadagna troppo ma un altro anno lo potevi tenere tu portare cesni a scadenza e l'anno prossimo prendevi un altro partire dice ma di gregorio avrebbe comprato un'altra squadra e ragazzi miei ma di portieri forti ce ne è tanti non esiste solo di gregorio non esiste solo di gregorio c'è ne esistono di portieri forti avresti potuto prenderlo l'anno prossimo invece quest'anno adesso si è andato a prendere di gregorio che è un buon portiere ma il problema cesni perché cesni non riesce a piazzarlo e anche se cesni è una persona per bene a differenza di altri e non si è messo di traverso tu hai un problema di mercato nel liberarti di questo giocatore altro problema importante ragazzi è il terzino destro terzino destro titolare sarà danilo capitano della juventus e che secondo me visto e considerato che motta gioca con un terzino bloccato danilo è l'ideare a sinistra ti sei coperto perché hai preso cabal come sostituto di cambiasso quindi a sinistra stai bene ma serve un terzino destro e ci stiamo facendo sfuggire un'occasione importante di mercato come qui che cansello a mio modo di vedere un giocatore irrinunciabile potresti fare le coppie un po come le faceva allegri non so se vi ricordate ragazzi perché allegri metteva sempre un terzino di spinta e uno più difensivo quindi fai giocare magari cabal e e cansello oppure cambiasso e daniele abbiamo 70 partite se tutto va bene direi che ci servirebbe ma questa è ancora un problema secondario altro nota dolente è il centro della difesa perché il posto di bremer che che se ne dica voci di mercato cazzà bremer giocherà nella juventus poi i mal di pancia arriveranno l'anno prossimo perché bremer ha una clausola recessoria ma bremer nella prossima stagione sarà di certo al 100 per cento ci metto la firma un giocatore della juventus quindi giocherà bremer centrale ma poi gli altri centrali forti se abbiamo deciso di far giocare danilo terzino destro chi sono abbiamo gatti che non può assolutamente rappresentare un difensore centrale di livello assoluto e abbiamo rugani che addirittura sul mercato e vorremmo mandare via abbiamo mandato via un talento cristallino come ausen poi ragazzi non venite mi a dire ma ausen ha fatto ausen ha detto ragazzi anche la società juventus quando vuole tacitare e tranquillizzare i tifosi fa una determinata propaganda su determinati calciatori stesso discorso farò nei confronti di sulle e nei confronti di moise a che perché secondo me sono tre giocatori di cui è stato detto per non creare dei problemi perché sono tre giocatori giovani mandati via secondo me dopo un allenatore che non ha saputo valorizzarli io avrei tenuto tutti e tre poi dici per problemi di bilancio per fare delle plus valenze sono stati ceduti tutte e tre ma c'erano altre alternative detto questo in difesa abbiamo un problema e il nostro problema è che dobbiamo acquistare adesso un giocatore francese che io personalmente non conosco benissimo ma so che ha fallito al barcellona ha fallito al benfica adesso gioca nel nizza in italia non ha mai giocato e questo per un centrale ragazzi è un problema perché il campionato italiano è molto molto tattico è molto molto difficile giocare in difesa in italia lo sapete benissimo le figuracce che hanno fatto i giocatori arrivando da altri campionati anche campioni mi viene per esempio in mente gli amici milanisti lo ricorderanno un certo winston bogart arrivato al milan come il nuovo centrale che doveva distruggere tutto ha fatto delle figure di merda inenarrabili inenarrabili alla juventus per esempio nazionale francese bun song ragazzi del 2007 lo ricordate lo ricordate ricordate i casini che ha fatto in serie b un giocatore scarsissimo poi melberg quanti quanti giocatori arrivati dall'estero nico kovac ragazzi gente arrivata dall'estero che ha fatto delle figure barbine e quindi io sono preoccupato per tu di boh personalmente avrei tenuto house che tra l'altro è anche sinistro opinione personale per i centrocampisti abbiamo detto che visto che gioca col centrocampo a due davanti alla difesa hai la la sua riserva probabilmente può essere locatelli o fagioli e appunto avrai di fianco a lui turam la cui riserva al momento non si sa che può essere lo stesso locatelli o lo stesso fagioli però onestamente da glas louis fagioli mi sembra un centrocampo troppo tenero dal punto di vista tecnico abbiamo ancora me che ne è chiaramente sul mercato abbiamo nicolossi caviglia ma anche nicolossi caviglia sembra sul mercato miretti si è infortunato ma onestamente vorrei vederlo con un altro allenatore ma l'avrei mandato in prestito perché l'anno scorso non ha dimostrato di essere da juventus e poi arriviamo alla tre quarti il tasto dolente ragazzi il tasto più dolente di tutti abbiamo avuto da inizio mercato un unico obiettivo per il quale abbiamo ceduto sulle e house per andare a prendere theon cup miners theon cup miners giocatore dell'atalanta ottimo giocatore ma che per me non vale 60 milioni l'ho detto in un video lo ribadisco cup miners 45 milioni stai comprando ancora bene 50 milioni sta iniziando a pagarlo tanto sta iniziando a strapagare 60 milioni ti stai facendo inculare dall'atalanta questo è il mio modo di vedere è la juventus spero che giuntoli abbia un'alternativa altrimenti non lo si può definire non lo si può definire un fuoriclasse di mercato come sua riserva c'è giovinco c'è il di ci sono tante idee naturalmente ragazzi non lo sappiamo perché abbiamo un nuovo allenatore non sappiamo come vede lui i giocatori e se si adattano a quelle posizioni io posso immaginare le caratteristiche appunto di fagioli lo vedo che può fare il trequartista però magari ti aveva molto cerca altro non trequartista ragazzi cerca un trequartista di inserimento sicuramente se vado a immaginare ferguson del bologna cup miners è molto più simile a ferguson del bologna andiamo agli esterni perché un'altra nota dolente a sinistra ormai certo del posto è che non il diz non sappiamo chi sarà la sua riserva qui ha comprato un esterno sinistro di riserva per è anche forte perché ragazzi il diz non è ancora una certezza è un giocatore di un talento sopraffino di una classe eccezionale un 2005 ma attualmente non può essere una certezza della juventus stesso identico discorso sulla destra perché attualmente se non consideri chiesa che vuoi vendere e che non vuoi tenere in rosa mi devi prendere uno forte si parla di si parla di sancio però ragazzi perché attualmente la juventus a destra lì ha solo uea che l'anno scorso ha dimostrato di non essere un giocatore da juventus men che meno titolare se vuoi vincere ti serve un altro giocatore forte lì c'entra avanti sento che vogliono vendere milic per andare a prendere retegli per me è una cagata vlaovic è certo del posto anche perché con lo stipendio che ha è inventibile e speriamo che vlaovic quest'anno renda per come è stato pagato perché vlaovic ancora deve dimostrare tutto il suo valore io spero che tiago molto gli faccio fare spero tanto perché io adoro vlaovic spero che tiago molto gli faccia fare quel salto di qualità che ancora a tuttora non ha fatto non so se per colpa di allegre per colpa sua io non lo so so solo che non l'ha fatto ragazzi quel salto di qualità la riserva spero che tengono milic arrivate a questo punto perché milic è un ottimo giocatore e poi nel dubbio può giocare il diz da falso neve ragazzi non è che dobbiamo prendere 50 giocatori davvero perché milic è spesso infortunato però adesso tu vai a vendere milic prendere retegli che ti chiedono 30 milioni onestamente sembra una gran fregatura questa è la situazione ragazzi a 20 giorni dalla fine del mercato fatemi sapere voi cosa ne pensate perché io sinceramente sono preoccupato e ritengo che ci sarebbero talmente tante cose da fare ragazzi perché da come abbiamo detto ci serve un centrale un terzino destro di riserva ci serve appunto un trequartista titolare ci serve un esterno sinistro di riserva il diz e un esterno destro titolare cinque giocatori e noi non abbiamo i soldi per comprare cinque giocatori del livello che ci seguono quindi onestamente sono un attimino preoccupato fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti del lavoro di giuntoli fatemi sapere se siete preoccupati come lo sono io in questo momento fatemi sapere cosa pensate anche della situazione trequartista cup manners perché è stato parlato solo per qualche tempo di orilli ma ragazzi ma di trequartisti forte al mondo ce ne sono tanti per esempio un altro che mi piacerebbe da danni olmo se proprio dobbiamo spendere quella cifra meglio prendere danni boh non so almeno a me piace molto più danni olmo che 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 te un cop minus poi è una mia idea è un mio modo di vedere il calcio che è opinabile ragazzi perché un'opinione e rispetto l'opinione di tutti ma confrontiamoci e cerchiamo di parlarne perché arricchisce quindi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e fino alla fine contro tutte e sempre comunque forza juventus